Il progetto finanziato con il contributo della Regione Marche ci ha permesso di aprire alle visite il Palazzo dei Principi di Carpegna, bilancio molto positivo, l'interesse degli utenti è stato veramente tanto, abbiamo gestito veramente molte visite e quindi siamo sicuramente soddisfatti. Un pacchetto poi che non parla soltanto di cultura ma è composto da più elementi? Sì, assolutamente, cultura perché chiaramente il Palazzo dei Principi è un'eccellenza da quel punto di vista e ci abbiamo abbinato quelle che sono le ricchezze del territorio e quindi diciamo che al Carpegna Holiday oltre alla vista del Palazzo dei Principi è stata aggiunta una degustazione di prodotti locali molto apprezzata dai turisti e comunque dagli utenti, da coloro che hanno potuto provare questa esperienza. Tanti prodotti tipici tra cui il prosciutto di Carpegna, il miele, il tartufo, i legumi di San Sisto, i prodotti della Marta che è un laboratorio artigianale di Carpegna, i salumi nella macelleria Bebi, nella macelleria del Corso, i formaggi locali, insomma tutti quei prodotti che sono un'eccellenza gastronomica per il territorio. Oltre a questo c'è stata anche la possibilità per questi turisti di fare un'esperienza in bottega presso l'antica stamperia qua di Carpegna che ha accolto tante persone mostrando quello che è il lavoro che si fa ancora a mano con la stampa dei tessuti e delle stoffe all'interno appunto della bottega antica stamperia che si trova presso la pieve di Carpegna. I turisti che hanno approfittato di questo bel pacchetto e di questa opportunità si sono divisi tra quelli che comunque frequentavano la zona di Carpegna e quindi erano ospitati qua nei nostri hotel e nei nostri campeggi. C'è stata una piacevole sorpresa da parte nostra perché effettivamente siamo riusciti anche ad attirare persone curiosi dalla costa e soprattutto dalla nostra costa, quindi la costa romagnola e la costa di Gabice, Pesaro e Fano. Quindi siamo molto contenti di questo perché persone sono partite appositamente dalla costa per riuscire a fare questa esperienza, attirati appunto dalla bellezza di Palazzo dei Principi ma anche dal piacere di poter gustare i nostri prodotti. Ricordo che questa estate la giornata dedicata al discorso Carpegna Holiday con visita, degustazione e esperienza in bottega era il giovedì. Abbiamo cambiato il giorno e quindi adesso la giornata dedicata a questo, all'esperienza completa è il sabato, questo per venire incontro chiaramente alle necessità delle persone che molto probabilmente non saranno più in ferie ma avranno ricominciato a lavorare e quindi potranno farlo il sabato quando sono libere. Le altre due giornate di visita a Palazzo dei Principi sono il venerdì in serata alle 21.15 inizia la visita e la domenica alle 10.30. È possibile prendere parte Carpegna Holiday contattando la Proloco di Carpegna con una mail oppure telefonando allo 0722 77326 numero al quale risponde appunto il personale della Proloco di Carpegna che prenderà nota delle varie esigenze e delle prenotazioni.